Hai già sentito parlare della SPA, sindrome del pensiero accelerato, una delle forme di ansia più diffuse nella nostra società, nell'era digitale. Il voler essere sempre connessi, il voler essere sempre in corrente delle cose che ci succedono e questo genera nel cuore dell'uomo un'ansia tremenda perché non si riesce a vivere bene il tempo presente, si è angosciati per il passato, per quello che abbiamo vissuto, si è angosciati per il presente, si è addirittura angosciati per il futuro, che cosa mai potrà succedermi? Le paure che il mondo genera, la paura della guerra, la paura del sentirsi soli, ma Santa Teresa di Gesù Bambino viene a dirci la mia vita è solo un istante o solo oggi per amarti mio Dio. Ecco, il vivere bene il tempo presente. L'invito per questa settimana è proprio che possiamo fare della nostra vita un momento in cui si vive bene l'oggi, mettere nelle mani del Signore la nostra esistenza e fare di questo la nostra preghiera. Che Dio ti benedica.